Tornano ad attualità gli incendi delle autovetture. Era già accaduto anche in provincia a Grottaglie durante una mattinata che una macchina all'altezza di un semaforo prendesse fuoco. Attimi di paura ci sono stati nella serata di mercoledì in via Polibio attorno alle ore 21 quando un'autovettura, una Seat a Rosa, ha preso fuoco mentre era ferma al semaforo all'angolo con via Dante. Secondo una prima ricostruzione da verificare, il veicolo avrebbe iniziato a perdere benzina dal serbatoio. Quando c'è stato il riavvio del mezzo, il motore avrebbe preso fuoco. Una donna e tutti coloro che erano nel mezzo sono riusciti in tempo a lasciare l'autovettura e a procurarsi un estintore dai vicini locali. La stessa però ha preso completamente fuoco ed è stata completamente distrutta. Sul posto sono anche intervenuti gli uomini dei vigili del fuoco. Resta quindi d'attualità non solo gli incendi delle auto ma anche la prevenzione con dei controlli che vanno fatti sulle stesse autovetture per evitare che situazioni del genere possano ripetersi. Grazie. 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 Grazie.